da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te benvenuti al meteo l'alta pressione africana ci accompagnerà anche in questo inizio di luglio dove il tempo si manterrà buono e il clima al quanto affoso vediamo il dettaglio sul veneto la grafica di venerdì evidenzia un ampio soleggiamento sarà per lo più asciutto cielo in prevalenza poco nuvoloso locali addensamenti sparsi nel corso del pomeriggio in montagna associati specie sulle dolomiti alla probabilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale temperature minime tra 17 e 24 gradi massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia e giulia dove avremo poche novità cielo sereno o velato nelle ore pomeridiane possibili temporali sulla zona prealpina temperature minime tra 19 e 24 gradi massime intorno ai 30 33 gradi infine vediamo la situazione del trentino alto adige anche qui bel tempo specie al mattino a seguire avremo qualche acquazzone veloce e a carattere sparso temperature minime intorno ai 17 19 gradi massime sui 32 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te